Il tuo posto preferito a Milano? La fabbrica abbandonata a Innocenti, all'Ambratia. In realtà ce ne sono molti, però il mio luogo del cuore sono proprio le vie del quadrilatero, però vissute di sera, addirittura quasi di notte. La torre velasca dei BDPR. A Milano di notte il ponte della Ghisolva, da cui si vede Garibaldi. Il posto che mi piace a Milano è la zona Corso San Gottardo via Gentilino. Poi c'è il deposito dei tram, è un po' strana, ti trovi in una piccola via e all'improvviso si apre uno scorcio con un grande deposito con tutti i tram. Vedere tutti questi tram insieme è un bel effetto. Te ne posso dire anche tre, sicuramente ci sono dei posti della città che riconosciamo come terribilmente appartenenti. Uno di questi fa ridere San Siro per me, perché sono interista, è collegato a, secondo me, una delle cattedrali più interessanti dove ci sono le sinfonie di questa città. Non c'è solo la scala, però San Siro è uno di questi. Poi ci sono tanti posti che sono vitali, andiamo per opposti e mi viene a mettere la libreria Utopia, che è comunque una libreria di resistenza che è riuscita a rimanere in piedi nonostante tutto il marketing, l'estremo capitalismo che questa città ha assorbito, perciò viva la libreria Utopia. E poi il ristorante Ratanà, che è all'isola. Tu fratello? Eccolo il mio fratello, vai. Luoghi preferiti di Milano? Luoghi preferiti di Milano o lo studio? Studio perché è il nostro luogo assolutamente di condivisione e di vita quotidiana dove mixiamo la pratica con i sogni. Sì, sì, è una miscela. È anche una miscela esplosiva. E poi c'è il gusto di camminare, di appropriarsi un po' degli spazi che sono i propri quartieri. Il ponte di ferro. Giunge la stazione di Porta Genova, via Tortona, che è un gruppo di artisti, di pittori, abbiamo ribattezzato il ponte degli artisti. Il mio fratello preferito è Via Fara, in Milano, perché il mio studio è lì, dove sono felice. E c'è in Il Paiolo, il mio fratello preferito. San Maurizio, in Corso Magenta. Uno Tyron. Mi ha chiesto qual è il tuo luogo del Corso a Milano, a San Juan. E lei, chiama io. Quel lungo viale della stazione, con tutto quel neoliberty, con quei spazi che sarebbe il sogno, con il loro spazio culturale libero, anche quelle arcate, il treno, il treno che tra l'altro arriva in città, è un posto ancora molto genuino a livello di... Sì, sì, sì. Eccoci qua, te ci ho tenuto tutti i tre. Grazie. Figurati. Ah, ah. Marti, togliti però, perché... Marti, spostati dalla strada. Passa, 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 frena. Prenda, Gaia. Fammi arrivare qui, no? Ho paura, ho paura. Ma hai paura che ci fai? Ho paura, frena, Gaia. Gaia, frena. Aiuto.